Alessandro, com'è stato lavorare con Marco Cavalli? Marco, un capitano fracassa, sentenza anche di ciò che non conosce direttamente, che non conosce bene. Ragazzi, fa anche qualcuno di giusto ogni tanto, ma sostanzialmente con un culto della personalità e della propria infaldibilità, che è un po' fastidioso. Marco, com'è stato lavorare con Alessandro Zartroni? Di che cosa parla il vostro libro? When the end comes, I know that's just a gigolo, life goes on without me, cause Nobody cares for me I'm so sad and low, yeah Nobody, 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 nobody cares for me I'm so sad and low, yeah I'm so sad and low, yeah